Viviamo il paradosso di un'agricoltura non più considerata settore primario dell'economia, ma che mantiene un'evidente rilevanza nelle politiche di sviluppo, negli squilibri della sicurezza alimentare come pure nella vita delle comunità rurali. In alcune aree geografiche, infatti, lo sviluppo agricolo resta la principale risposta possibile alla povertà e alla scarsità di cibo. Questo, però, significa rimediare alla carenza degli apparati istituzionali, all'iniqua acquisizione di terre la cui produzione è sostrata ai legittimi beneficiari, ad ingiusti metodi speculativi o alla mancanza di politiche specifiche, nazionali e internazionali. Sono parole ferme e chiare quelle che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti alla riunione dell'Associazione Internazionale Rurale Cattolica. Incontrandoli nella sala del Concistoro, il Pontefice ha rimarcato che oggi, guardando il mondo rurale, emerge il primato della dimensione del mercato che orienta azioni e decisioni, mentre bisognerebbe percorrere la via della giustizia nell'attribuzione delle terre, nei salari agricoli o nell'accesso al mercato. Di qui l'invito a non rimanere testimoni muti dinanzi a scelte che portano ad altissimi costi per l'ambiente, ma con un supplemento di umanità compiere scelte coraggiose, tutelando la varietà della specie e la ricchezza della biodiversità.